Le piogge delle scorse settimane hanno creato abbondanza di acque nei canali e nei torrenti che alimentano il fiume Serchio, facendo anche temere possibili esondazioni. Poi lentamente le acque sono ritornate a livelli normali e sono riemersi oggetti trasportati dalla piena del fiume. A Bolognana, ad esempio, è riemersa questa carcassa di auto che ha creato apprensione. Sulle prime infatti si era pensato che potesse essere una vettura con persone a bordo trascinata via dal Serchio. Fortunatamente poi è risultata una vettura con targa radiata. Ma il fiume, dopo la piena, fornisce anche delle opportunità. Sono tante le piante trascinate via dalle acque che diventano poi legna da ardere. Fino a pochi anni fa, con l'abbassarsi del fiume, si vedevano persone che andavano a posizionare una o più pietre sul tronco che successivamente avrebbero preso. Questa è un'usanza ancora riconosciuta nelle fonti del diritto dell'ordinamento italiano che rientra sotto il termine latino di res nullius, che significa cosa di nessuno. Il posizionamento della pietra sulla legna riveste un doppio significato. Il primo è quello di comunicare ad altre persone che il tronco è stato visto e prenotato. Il secondo, che consegue dal primo significato, è far sapere che se non si fa a vivo il legittimo proprietario, e questo praticamente non succede mai, questo tronco lo prenderà chi ci ha posizionato il sasso sopra. C'è ancora oggi gente che viene a prendere la legna nel fiume, la segna come facevano 50-100 anni fa, la segna con dei sassi, però oggi non sappiamo di preciso come sono le normative e quindi sarebbe bene avere anche un chiarimento perché veramente ci può essere gente che ancora oggi, non che ancora, ma purtroppo incomincia ad avere bisogno anche di un pezzo di legna che porta al fiume.